Il prezzo dell'argento è in aumento, è raggiunto un livello che va tra i 30 e i 32 euro all'oncia. Un buon rialzo rispetto alle scorse settimane dove si muoveva tra i 25 e i 27. Ci sono diverse ragioni per questo improvviso rally dell'argento, ragioni che analizzeremo insieme all'interno di questo video. Per anticiparti, una è l'indebolimento del dollaro USA e un'altra ragione è l'aumento della domanda di argento, soprattutto nei BRICS, in particolare in India e in Cina. L'India ad oggi è uno dei maggiori consumatori di argento al mondo e la sua domanda continua costantemente a crescere man mano che si rafforzano settori come quello elettronico e delle energie rinnovabili. Noi abbiamo già parlato più volte qua sul canale di argento, abbiamo parlato più volte di oro e argento in realtà, quindi dei metalli. Purtroppo non so perché in pochi ne parlano, sembra quasi un argomento un po' tabù, però a mio avviso meritano un posto di tutto rilievo all'interno di un portafoglio ed è per questo che porto costantemente aggiornamenti anche in questo ambito qui. In particolare volevo dedicare un intero video all'argento perché ho guardato un po' e c'è veramente pochissimo. Prima di analizzare bene nel dettaglio le possibili cause che ti ho già anticipato, però vorrei andare a guardare i grafici, vorrei andare a vedere che cosa sta facendo l'argento in termini di prezzo. E ne approfittiamo per vedere anche come sta andando avanti il nostro portafoglio che abbiamo costruito su Bitpanda, che offre una possibilità incredibile di investire proprio sui metalli preziosi. Bitpanda per chi non la conoscesse è una piattaforma che ci permette di investire sui mercati, contemporaneamente il mercato cripto, il mercato azionario, ETF, materie prime e appunto quello dei metalli preziosi. Ed è proprio sui metalli preziosi che Bitpanda diventa un validissimo strumento che ci permette di investire spot proprio su questi metalli fisici. Ma tra poco ci arriviamo. Prima di analizzare il portafoglio ti ricordo che se ancora non ti sei registrato a Bitpanda, ti puoi registrare gratuitamente usando il link che trovi qua sotto nella descrizione o qua sopra, comparso adesso. Cliccando ti potrai registrare gratis a Bitpanda e ricevere fino a 50 euro bonus direttamente nel tuo portafoglio che puoi usare come più ti piace. Ti lascio qua il link, clicca, là ci sono tutti i dettagli di questa promo qui. Passiamo a questo punto ai nostri grafici per capire che cosa sta succedendo. E partiamo dall'analisi del nostro portafoglio che abbiamo costruito la scorsa settimana. Se ti sei perso il video la scorsa settimana lo trovi qui, è questo qua. Te lo lascio comunque qua sotto nella descrizione e comparirà anche qua sopra il link. In questo video che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito in 30 minuti un portafoglio completo, sfruttando proprio quelle che sono le potenzialità di Bitpanda, che a mio avviso è un ottimo broker soprattutto per chi ha le prime armi, ma anche per i più avanzati ci sono veramente un sacco di cose che si possono fare. Andiamo a vedere il nostro portafoglio. Come vediamo siamo in profitto, il portafoglio partiva da un 360 dollari più o meno, comunque come vediamo qua nell'ultimo giorno siamo saliti. Andiamo anche a vedere magari per completezza il 7 giorni, ecco qua, così da avere un'idea di che cosa sta succedendo, è passata una settimana sostanzialmente. Siamo stati relativamente flat e poi c'è stato un picco ulteriore e una bella salita. Una cosa molto comoda di Bitpanda è la qualità delle analisi che ci permette di fare, nel senso che, come vedi, ci va a dire bene dove abbiamo tutto. In questo caso, per questo portafoglio abbiamo messo in ETF un 29, un 30% circa, crypto indici un 16%, i crypto indici sono sostanzialmente un portafoglio con le, in questo caso ho scelto le 10 top coin, le 10 top crypto per capitalizzazione. Un portafoglio che ogni mese si auto ribilancia in base a quelle che sono le classifiche, come sono cambiate, come hanno performato. Quindi una soluzione estremamente comoda per esporsi al mercato crypto. Poi abbiamo le materie prime, un 10%, un 8 barra 10% sui metalli, e qua ci sono oro e argento, e tra poco andremo a vedere come stanno andando. Qui ci sono degli avanzi di qualche crypto che ho, e poi un 33% in liquidità, cioè in euro dollari che tengo a generare interessi. Gli interessi, se non vado errato, sono tra un 2,5% e un 3% per l'euro, a seconda di come vengono tagliati i tassi di interesse, mentre per il dollaro siamo intorno a un 4% e qualcosa. Questo era giusto per darti una panoramica globale. Andiamo a vedere il portafoglio a questo punto come sta performando per ogni categoria. Vediamo il compartimento ETF e in positivo di uno 0,22%. Nel compartimento ETF ho messo un SP500, classico quello di BlackRock, un Ward e un Emerging Markets. Attualmente l'Emerging Markets è un po' in perdita, il resto comunque direi che è compensato. Nel globale siamo compensati. Poi ho messo i cripto indici, qua inutile, eccoli qua a vedere. Siamo attualmente in profitto anche sul nostro cripto indice di uno 0,21%, poca roba. Poi ci sono le materie prime, cripto in avanzo, liquidità, ma quello che interessa a noi è qui, i metalli. Andiamo quindi a guardarci i propri metalli come stanno performando. Vediamo l'oro attualmente è in profitto, ho messo più o meno un 50% silver, 50% oro. Siamo a un 2,83% di profitto dall'inizio del nostro investimento sull'oro, mentre sul silver, quindi sull'argento, siamo a un più 26% dall'inizio. Ho rispettivamente 16, quasi 17 grammi in argento e 0,18 grammi in oro. Sì, perché parlo di grammi? Perché su Bitpanda noi possiamo andare ad acquistare oro e argento fisico. Non ce lo spediscono, lo custodiranno loro per noi, però è comunque un modo per esporci direttamente al metallo. Questo è molto molto importante, nel caso, parliamo di sicurezza, di fallimento di Bitpanda, oro e argento sono di nostra proprietà, l'oro ci fanno da intermediario in questi acquisti. Stessa cosa per le cripto che sono custodite su ledger e su portafogli offline. Di conseguenza, in caso di fallimento, le nostre proprietà, ciò che abbiamo acquistato, quindi oro, argento, tutti i metalli preziosi, così come le cripto, sono di nostra proprietà. Tornando qui, andiamo a vedere come si sta muovendo il nostro argento. I grafici su Bitpanda non sono così ottimi, infatti va bene per chi vuole fare degli acquisti, delle vendite, degli swap così veloci o creare dei piani di risparmio. E questa è una soluzione molto interessante per chi vuole fare dei piani d'accumulo in oro e argento, Bitpanda è un'ottima soluzione, proprio perché ci permette di acquistare oro e argento fisico a commissioni estremamente ridotte rispetto a quelle che può essere l'oro e argento fisico, tipo monete e lingotti da farci spedire a casa. Questo è sicuramente un ottimo vantaggio per chi ha meno liquidità e quindi vorrebbe andare ad acquistare questo tipo di prodotto. Personalmente io lo utilizzo comunque, anche se ho più liquidità e tendenzialmente compro oro e argento fisico, però per diversificare, per avere comunque un buon margine speculativo, vado anche su questo tipo di soluzioni qui, in particolare su questa di Bitpanda, perché mi permette appunto di comprare a meno, quindi riuscire a comprare a un prezzo più vicino rispetto a quello che è il prezzo effettivo del metallo, piuttosto che le commissioni che vuoi o non vuoi sono sempre intorno al 10% se compri fisico, invece qui sono estremamente più contenute. Il grafico come ho detto non è dei migliori, però comunque lascia capire quello che sta succedendo, puoi mettere il grafico così o cliccando qua il grafico candela, noi andiamo a vederci come sta performando nell'ultimo anno l'argento. Come vediamo nell'ultimo anno l'argento è attualmente a un più 28,78%, quindi ha performato molto molto bene. Negli ultimi 5 anni, così abbiamo anche un'idea degli ultimi 5 anni come si sta muovendo, siamo a un più 54,32%. Come vediamo ha relativamente mantenuto il prezzo negli ultimi 5 anni e solo l'ultimo anno che ha fatto un bel exploit andando a colpire livelli più interessanti, quindi c'è stata effettivamente una crescita. Negli ultimi 30 giorni siamo a un più 5%, questi sono dati incredibili, contando che parliamo di metalli, contando che generalmente oro e argento non si muovono così tanto. Negli ultimi 7 giorni siamo a un più 6,79% in particolare, c'è stato proprio negli ultimi 7 giorni questa impennata e tra poco ti mostro il perché. L'ultimo giorno siamo a 1,67%, quindi l'argento si sta muovendo veramente molto molto bene. Come si sta muovendo anche molto molto bene l'oro, quindi andiamo a vedere anche l'oro per completezza. Anche l'oro nell'ultimo anno siamo a un 28% circa, negli ultimi 5 anni un 53%, quindi si è mosso relativamente in modo similare all'argento. Negli ultimi 30 giorni siamo a 1,93% mentre l'argento ha spinto molto di più e questi sono giusti dati degli ultimi periodi. Quindi oro e argento si stanno muovendo molto perché abbiamo detto ci sono diverse ragioni. Ovviamente giusto per completezza e per chiudere qua su Bitpanda io posso depositare cliccando qua, posso depositare con carta di credito, posso depositare con bonifico, ci sono un sacco di soluzioni, sono tutte gratuite, prelievi e depositi su Bitpanda sono gratuiti, quindi deposito e poi posso comprare quello che voglio, molto molto semplice. Torniamo a questo punto alla nostra analisi, cerchiamo di capire perché l'argento effettivamente sta facendo questo enorme movimento. Dunque, come ho già detto, ho segnalato diverso tempo fa l'anno scorso e l'anno ancora prima di tenere d'occhio l'argento perché mi aspettavo una crescita negli anni. Chi mi ha ascoltato bene sarà contento sicuramente adesso, chi mi ha ignorato pazienza, capita, ci saranno altre occasioni. Fatto sta che effettivamente come abbiamo visto l'argento si sta muovendo e si sta muovendo con prepotenza. Il primo grande evento catalizzatore per questa run dell'argento sono stati i PPI degli Stati Uniti e la domanda crescente proprio da parte dell'India, come abbiamo già anticipato. Per chi non sapesse che cosa sono i PPI USA, sono sostanzialmente il Producer Price Index, cioè un indice dei prezzi alla produzione. Che cosa misura questo indice? Misura non il prezzo di un prodotto al consumatore, quindi quando va al dettaglio, ma il prezzo al venditore. È un indice estremamente utilizzato per valutare la situazione dell'inflazione, per misurare quella che è l'inflazione. Come si legge, se il dato è più alto rispetto alle aspettative, indica un rafforzamento del dollaro. Viceversa, se è più basso rispetto alle aspettative, indica un indebolimento del dollaro. Si legge da investing.com, te lo leggo pari pari così hai un'idea, i prezzi dell'argento sono aumentati del 2% giovedì, proprio a seguito della pubblicazione dei dati sul PPI degli Stati Uniti, come abbiamo detto. Sebbene il PPI mensile sia aumentato più del previsto, i dati annuali sono in realtà diminuiti, di conseguenza indicano un indebolimento del dollaro. E di conseguenza, cosa succede quando si indebolisce il dollaro? Si va a rafforzare il compartimento, in particolare dei metalli, quindi oro e argento. Questo, unito a che cosa? Unito alle importazioni di argento dell'India, che dovrebbero, nel 2024, prima parte del 2025, andare addirittura a raddoppiare, causando quindi una crescente domanda da parte dei settori, in particolare dei pannelli solari e dell'elettronica. L'India sta sviluppando veramente tantissimo in questo compartimento e sta consumando argento sempre più in massa. Quindi la combinazione dei dati economici non proprio positivi degli USA, unito a una forte domanda industriale per questo metallo qui, porta come naturale conseguenza un incremento del suo valore, un incremento dei prezzi. Ti porto anche all'attenzione un altro articolo, questo qui. Si legge, secondo Chris Ricci, il presidente di Silvercrest Metals, la corsa dell'argento e dei metalli preziosi continuerà. Questo è il suo parere personale. Si legge, infatti, c'è stato sull'argento un disavanzo dell'offerta superiore a 700 milioni di once. Questo negli ultimi due anni. Unito tutto ciò alla mancanza di investimenti in nuove miniere, potrebbe avere un impatto significativo sull'offerta futura. Quindi c'è un disavanzo, c'è una produzione più lenta, c'è meno produzione, ma contemporaneamente un'alta domanda. Questo che cosa può portare se non proprio ad un incremento del prezzo. Ha poi sottolineato, come del resto facciamo anche noi da due anni a questa parte qui sul canale, il sempre crescente debito nazionale degli Stati Uniti, che ha visto il suo tetto aumentare di ben 74 volte dal 1960. Quindi una crescita del debito incredibile. Quindi questo deficit produttivo unito a una situazione politica rotta negli Stati Uniti non può che portarci a credere che i governi continueranno a mantenere tutto come hanno sempre fatto, di conseguenza continueranno a stampare la loro via d'uscita. Ma contemporaneamente questo che cosa comporterà? Comporterà che settori come quello dei metalli tenderanno inevitabilmente a crescere. Si legge sempre sullo stesso articolo abbiamo nominato il deficit d'argento superiore ai 700 milioni di once negli ultimi due anni, come abbiamo detto. Ma un ulteriore aggravio di questo deficit è dato dalla mancanza di investimenti nello sviluppo di nuove miniere. La crisi finanziaria globale, infatti, ha notevolmente smorzato l'entusiasmo degli investitori con conseguente carenza di nuovi progetti che entrano in cantiere. L'attuale contesto inflazionistico complica ulteriormente le cose poiché le miniere esistenti lottano per mantenere la reddittività proprio a causa dell'aumento dei costi operativi. Quindi stiamo parlando di uno scenario globale nel mondo dei metalli in generale. In particolare, ora stiamo analizzando l'argento ma stessa cosa vale anche per l'oro una richiesta sempre maggiore ricordiamoci che tutte le parti elettriche hanno dell'argento di conseguenza è estremamente richiesto come metallo è estremamente utile all'elettronica e visto che stiamo prendendo la direzione del tutto elettrico l'argento sarà essenziale quindi abbiamo una crescita della domanda un deficit nella produzione un deficit nella volontà di investire sul settore minerario per andare a aumentare la produzione una redditività in calo per i costi di produzione che devono sopportare proprio le aziende che estraggono grande job quindi stiamo parlando di un insieme di situazioni che inevitabilmente sono estremamente bullish per il prezzo dell'argento quindi lato nostro che investiamo queste situazioni qui diventano un catalizzatore importante da tenere sotto controllo da tenere d'occhio e proprio su questo torno su quell'articolo lì ha deciso penso per la prima volta nella storia dell'industria di mantenere una parte di argento estratta piuttosto che venderla tutta tendenzialmente queste società estraggono e vendono tutto tenendo poi il dollaro quindi vendono tutto e parcheggiano una liquidità ma come fanno tutte le aziende ogni azienda non è in produzione vai vendi il tuo prodotto il tuo servizio e incassi euro dollari e così via le aziende minerarie tendenzialmente vendono al 100% tutta quella che la produzione qualsiasi metallo abbiano estratto lo vendono al 100% incamerano ovviamente denaro che utilizzano poi per investire sulle miniere e così via Ricci ha deciso invece di andare a mantenere una parte di argento estratta piuttosto che venderla in toto si legge dice testualmente dobbiamo detenere oro e argento per proteggerci dal fatto che spendiamo ingenti somme di denaro per lunghi periodi di tempo vendendo tutto per detenere fiat cristallizza solo perdite di conseguenza è molto meglio parcheggiarsi una parte di ciò che è stato estratto per noi per far fronte a spese future considerando che secondo loro il dollaro continuerà così come tutte le valute fiat a scendere proprio per questa bolla inflazionistica per questa bolla del debito e avere invece argento oro e così via quindi metalli preziosi su cui poter far fronte ad avere quindi nella società in questo caso può essere un'ottima soluzione per evitare di cristallizzare delle perdite perché tu vendi però in realtà puoi vendi in perdita perché il metallo che tu hai venduto tenderà a crescere nel tempo perché il dollaro che tu acquisisci si svaluta secondo lui conviene molto di più tenersi una quota tenerla lì ferma e vedere poi nel futuro come evolve questo può essere sicuramente un cambio di prospettiva radicale e merita analizzare questa situazione e vedere effettivamente come svilupperà ed è forse proprio per queste ragioni che personaggi grossi nel mondo degli investimenti come Reidalio ma come anche Kiyosaki per esempio puntano molto sui metalli oro e argento in particolare Kiyosaki punta moltissimo sull'argento come possiamo sentire anche in questo video This is the best investment in the world today It's called silver Okay And the reason I say that is because I study history a lot This here is fake money I would never work for this stuff It's good as toilet paper So the biggest investment today is this This is 35 US and I think everybody in the world can afford this today I tell people every day you should buy this No I say this You see they don't know different routine this is fake money This is real money And this here is gold Real money Fake money So the yen the rupee the dollar the peso all fake Tieni d'occhio l'argento perché potrebbe essere un investimento estremamente interessante personalmente una quota del mio portafoglio tra un 10 e un 15% ce l'ho diviso a metà tra oro e argento quindi tengo entrambi perché credo che nel lungo termine vadano ad apprezzarsi rispetto a quello che è il depreciamento del dollaro o comunque dell'euro delle valute fiat Credo molto di più negli asset lavoro per detenere asset non per detenere debito cioè per avere un pezzo di carta che obiettivamente a poco serve ormai oggi Ovviamente disclaimer investire comporta dei rischi quindi fai le tue dovute analisi fai le tue dovute valutazioni io qui ti ho voluto portare un'analisi completa di ciò che sta succedendo sull'argento e di che cosa ci si può aspettare nei prossimi periodi nei prossimi mesi barra anni Ti ho anche parlato di Bitpanda perché è una soluzione che personalmente uso e con la quale mi trovo molto bene nell'acquistare oro e argento o comunque investire a 360 gradi sul mercato ti ricordo qua sotto ti lascio il link e ti comparirà anche qua sopra quindi clicchi qui e hai fino a 50 euro in omaggio fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensi tu dell'argento quali pensi possano essere dei target possibili che cosa pensi anche del compartimento globale dei metalli quindi sia oro che argento non seguo tanto platino palladio e così via io mi sono focalizzato su oro e argento però anche lì ci sono sicuramente delle opportunità molto interessanti trovi anche quelli ovviamente su Bitpanda ti ringrazio per essere stato qui con me occhi aperti mi raccomando perché i prossimi mesi potrebbero essere molto interessanti per l'argento soprattutto se si entrerà in recessione oro e argento potrebbero veramente diventare delle ancore di salvezza per il nostro portafoglio ciò non toglie che bisogna comunque chiaramente sempre investire studiare con accortezza ciò su cui vogliamo posizionarci un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti Grazie.